Buon Oedì e buon Crypto Monday, quest'oggi apriamo con una schermata nuovamente in rosso rispetto a 7 giorni fa dove BTC fa un meno 8.66%, qui sono su coin360.com Una dominance che si abbassa, questo lo vediamo tra un attimo anche su CoinMarketCap, infatti ci sono altcoin che perdono in percentuale meno rispetto a BTC Nonostante la seconda più capitalizzata, Ether, stia perdendo un pochino di più e sia in doppia cifra con il negativo, meno 11.75% Andiamo a vedere subito cosa sta succedendo a livello generale con una market cap che rimane sotto il trillion dollars, i mille miliardi di dollari, a 866 miliardi di dollari Con BTC che qui ci fa vedere una percentuale al 42.2%, invece avevamo visto coin360.com differire per un punto percentuale Ether al 14.8%, comunque entrambe hanno perso dominance rispetto alle altre monete Quindi in questo momento, a differenza di quello che avviene o avveniva negli scorsi cicli ribassisti Dove Bitcoin aumentava la sua dominance arrivando anche a percentuali vicine al 60% e alle volte anche superiori Ed Ether anche acquisire il suo spessore, in questo caso stiamo vedendo una diminuzione Quindi anche questo è un fenomeno che potrebbe farci aprire due strade Uno è quello di pensare che ha ancora l'effetto di ribasso sia solo all'inizio Quindi si andrà a frenare poi a un certo punto il ribasso su Bitcoin e inizierà anche un ulteriore ribasso per le altre monete Facendo così alzare la dominance, ma nel complesso su una market cap più bassa Oppure un fenomeno inedito anche da questo punto di vista in questo ciclo ribassista Per quanto riguarda le monete in generale, qui vediamo dei ribassi rispetto a 7 giorni sparsi su un po' tutta la coin market cap Andiamo nello specifico su Bitcoin, così da vedere quello che è successo nelle diverse finestre temporali Finestre temporali che ci fanno vedere un ribasso su tutti i time frame Quindi il settimanale con il rialzo della settimana scorsa e le attese per gli esiti ad esempio su le deadline degli ETF Entrambi scartati, addirittura con anticipo perché si era in attesa per quello su Grayscale al 6 luglio Invece è stato scartato, rifiutato già da prima Abbiamo qui la finestra temporale mensile che ci indica quasi 30.000 dollari Tre mesi fa il prezzo era 45.000 dollari Un anno fa il prezzo era sui 33.000 dollari Quindi quasi tutti i time frame in questo momento sono su un ribasso Ci indicano un ribasso Dovremmo allargare ancora di più la finestra temporale e tornare a due anni fa per poter vedere un prezzo più basso In generale andando ad osservare quella che è la visualizzazione all time appunto siamo tornati ai livelli del 2020 Andiamo velocemente a vedere quello che sta succedendo in analisi tecnica Per poi passare a analisi on chain e ovviamente analisi fondamentale Tutte le notizie che si sono susseguite nella settimana precedente e quelle che sono rilevanti per questa settimana Qui su Coinbase grafico BTC dollaro su candele giornaliere Vediamo che il prezzo è sceso sotto il livello dei 20.000 dollari Che era questo supporto importante anche perché è stato a lungo l'all time high per bitcoin nel scorso ciclo Ed è una cifra tonda quindi psicologica In questo momento stiamo vedendo un RSI quasi in iper venduto Questo è un buon segnale Ma ha dei volumi bassissimi Quindi su questi livelli di prezzo effettivamente si ha una stabilità quasi piatta Anche perché stiamo vivendo un periodo in cui i mercati sono chiusi Oggi è il 4 luglio giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti E quindi giorno festivo anche per la borsa americana Quest'oggi la borsa non aprirà In generale è un periodo in cui si va a operare molto poco sui mercati Questo qui per poi arrivare nel periodo di agosto In cui le movimentazioni vanno a rallentare ancora di più in generale nel mese intero Ma in particolare in questi giorni ci si aspettava poca movimentazione Questo è molto pericoloso perché i volumi sono molto bassi E in generale può succedere che ci sia una lateralizzazione di questo tipo quasi piatta Oppure una manipolazione che porta a una volatilità elevatissima Perché con poco volume si riesce a muovere il prezzo di tanto se si ha un qualche tipo di obiettivo E quindi in questo momento qui c'è un rischio altissimo di volatilità O comunque una bassissima operatività C'è poco altro da dire Infatti è importante per il prezzo poter reggere quantomeno cifre tonde come i 19.000 o addirittura i 18.000 dollari Per il resto come vedremo ci sono molti analisti che si aspettano prezzi anche più bassi Verso l'alto dovremo continuare a osservare quelle che sono comunque le due medie mobili Quelle a 50 giorni e quelle a 200 giorni sul grafico giornaliero Dove effettivamente vediamo una resistenza a 25.700 dollari in questo momento Se proprio abbiamo già recuperato quella da 20.000 e quella da 25.000 che sono cifre tonde Come sapete non mi piace mettere troppo focus su analisi tecnica e basta Anche perché andrebbe a prendere tanto tempo e lascerebbe poi una lettura troppo parziale su quello che sta succedendo Proprio perché come detto con questi volumi la manipolazione è fattibile, è elevata E a questo punto le strutture di prezzo che si vanno a creare Le strutture che si possono creare da lettura tecnica Tengono poco soprattutto se arrivano capitali in un certo modo Importante vedere anche che il circolante sui diversi exchange è molto basso Questo alimenta lo stesso discorso perché in questa fase in cui solamente il 12.6% dei bitcoin complessivi circolanti sono depositati su exchange Permette un'alta manipolazione del prezzo con una supply molto limitata da poter essere scambiata Questo alimenta quel fenomeno che più volte ho citato della supply shock Supply shock che avviene in un momento di rialzo se la domanda arriva Ma attenzione se non c'è domanda, se non c'è operatività Questa bassa supply potrebbe anche portare una volatilità molto irruenta verso il basso Questa è la situazione che stiamo vivendo al momento La cosa che differisce ancora una volta dal passato è che in una fase in cui il prezzo si abbassa Anche gli exchange stanno fuoriuscendo, anche i bitcoin stanno fuoriuscendo dagli exchange Cosa che invece avveniva in verso opposto in altre fasi di bassiste Come ad esempio quella del 2018 che possiamo vedere per bene qui Questo è stato il picco e l'all time high dello scorso ciclo vicino ai 20.000 dollari Con i bitcoin che iniziavano prepotentemente a rientrare negli exchange Ed aumentare nella loro percentuale di deposito Questo ha raggiunto un suo picco al 17% e poi ha iniziato a diminuire notevolmente In questa fase ovviamente molto sta influendo anche la grande paura che c'è su sistemi centralizzati Le SeFi, quello che è successo su Celsius, quello che sta avvenendo su BlockFi ed altre strutture Sta impaurendo in molti che stanno ritirando i propri bitcoin E c'è tanto FAD anche sugli exchange centralizzati Infatti si è vociferato di exchange vicini al blocco dei prelievi Exchange che stanno utilizzando liquidità e rischiano una bank run Anche top tier exchanges Tutto ciò alimenta la voglia di chi ha delle monete di o venderne oppure ritirarne e fare una custodia personale Muovere in wallet non custodial Andiamo a vedere le 5 cose importanti a osservare questa settimana Che è ripeto la settimana in cui sono stati bocciati nuovamente gli ETF Ne parleremo brevemente in un articolo seguente Quello che conta in questo momento è sapere come ho anticipato che le borse americane riapriranno il 5 luglio E questo momento era stato preso in considerazione come un periodo e un weekend molto molto rischioso Finora nonostante ribasso questo weekend è andato direi io benino Perché c'è stato comunque un ribasso su bitcoin ma non c'è stato un crollo clamoroso Come qualcuno aveva pronosticato Questo però potrebbe ancora avvenire perché la giornata è lunga Per gli Stati Uniti in questo momento in cui registro è ancora notte Probabilmente quando pubblicherò il video inizierà ad essere giorno Comunque è mattinata E quindi dovremmo vedere quello che succede da quel punto di vista Intanto quello che si può osservare è una forza notevole del dollaro Infatti è proprio questo il punto chiave Nonostante noi in questa tipologia di video, in questo mio canale Andiamo ad osservare quello che succede nel mondo cripto Quello che succede sul mondo bitcoin C'è da allargare un po' la veduta E c'è da rendersi conto che quasi ogni asset escluse le commodity Stanno perdendo rispetto al dollaro E il dollaro si sta rafforzando sempre più Questo lo vediamo nel suo indice di XY Con un valore 105 Che misura il dollaro su un paniere di altre fiat currency E lo vediamo anche su quello che sta succedendo ad esempio con l'oro Che in una fase di alta inflazione come questa Spesso in questo periodo si sta tra virgolette prendendo in giro bitcoin Su come sia stato sempre in questo ultimo ciclo Etichettato come asset di protezione o da protezione contro l'inflazione Per qualcuno questo non sta funzionando A mio modo di vedere sta funzionando anche perché bitcoin vale quanto valeva due anni fa E ovviamente l'inflazione non può essere misurata sul breve termine Ma deve essere misurata su time frame più ampi Ovviamente però la prova non è ancora finita Ad ogni modo quello che dobbiamo osservare in modo più razionale È il rafforzamento incredibile che ha raggiunto il dollaro rispetto a qualsiasi altro indice Escluse come ripeto le commodity come ad esempio lo standard impulse 500 O come addirittura l'oro che non riesce a superare nella coppia oro-dollaro i 2000 dollari per oncia E questo è un segnale molto importante con l'inflazione del dollaro Che supera invece l'8% 8.6% dichiarati rispetto all'indice CPI È evidente che in questo ultimo periodo ci sia un'alta correlazione Un ratio molto forte tra quello che sta succedendo soprattutto sul Nasdaq per quanto riguarda bitcoin Che viene in alcuni modelli comparato all'andamento dell'indice per i titoli tecnologici Quindi per molti soprattutto per molti investitori che hanno nel portafoglio questi tipi di azioni Questi tipi di stock probabilmente hanno anche una sorta di allocazione per asset a partire da bitcoin E i movimenti che vengono fatti su questi portafogli influiscono anche sui movimenti di bitcoin Quindi se si vende in modo proporzionale alcune posizioni sull'allocazione in Nasdaq Vengono vendute anche allocazioni in bitcoin Questo sembrerebbe abbastanza evidente Questo crea questo tipo di correlazione su breve termine Infatti è praticamente dal 2020 in poi che stiamo vedendo questo andamento correlato Durerà per sempre Io vi sconsiglio di prendere bitcoin come un qualcosa che si è compreso E dal quale con il passato possiamo leggere il futuro Perché ogni volta che la maggior parte delle persone pensa di aver capito come funziona Un certo tipo di andamento su bitcoin Bitcoin cambia e cambia sia narrativa cambia anche il suo modo di comportarsi Quindi attenzione a fare questi legami molto forti Probabilmente questi ultimi due anni questo legame è evidente Ma nell'andamento e nell'evoluzione di bitcoin potrebbe non esserlo Anche perché dobbiamo osservare fin quanto durerà la forza del dollaro Che è raggiunto i suoi massimi e li sta mantenendo ormai da diverso tempo C'è da ricordare che con l'innalzamento dei tassi di interesse di 75 punti base Tutte le allocazioni su asset ritenuti rischiosi sono andate a diminuire drasticamente E questo ha influito parecchio sul mercato e parecchio su bitcoin Come vi dicevo siamo ancora a rischio per questo mega dump a detta di Arthur Hayes Che è l'ex CEO della piattaforma per derivati BitMEX Vedremo come andranno questi giorni e come finirà questa giornata del 4 luglio E come riaprirà poi la borsa nella giornata di martedì 5 luglio Quindi di domani nel momento in cui sto registrando Un aspetto importante da osservare è la difficoltà del mining Infatti questa continua a salire si sta riprendendo in questo momento L'ash rate è quasi ai suoi massimi Indicando una capitolazione per quanto riguarda il mining ancora lontana Probabilmente c'è una fase di epurazione anche qui dove Quelle situazioni meno efficienti sono costrette ad uscire dal settore E vengono premiate tra virgolette solo quelle soluzioni Quelle situazioni più efficienti Questo rende il tutto un po' più industrializzato direi io Cioè non si può minare con il fai da te Ma bisogna avere una struttura un po' più preparata Altrimenti il costo è più alto del rendimento Ci sono evoluzioni molto importanti anche a livello hardware Perché ad esempio hanno iniziato la distribuzione Si è iniziata la distribuzione di nuovi ASIC prodotti da Intel E questa evoluzione porta ovviamente più efficienza Che si traduce con costi più bassi e hash rate più alto Quindi c'è anche questo fattore Quello che si muove dal punto di vista hardware È sicuramente più lento rispetto alla velocità dei cambiamenti di mercato Quindi stiamo vedendo ancora questo fenomeno qui Probabilmente se il mercato ribassista dovesse durare un periodo prolungato Molti di questi player sarebbero comunque costretti O a smettere e a bloccare la loro operatività spegnendo le loro macchine Oppure a vendere quello che minano per rientrare dei costi Continuando sulla scia dei dati on-chain Un dato molto importante che potrebbe indicare Che stiamo arrivando alla saturazione delle vendite È quello di osservare che gli UTXO O comunque le porzioni di Bitcoin vendute Sono arrivate a raggiungere il record negativo del 2020 Se dovessimo osservare quanti di queste sono vendute in perdita Che vuol dire che la maggior parte dei Bitcoin che vengono scambiati O che vengono spesi in questo momento Vengono spesi ad un prezzo più basso Rispetto a quando questi Bitcoin, queste monete O frazioni di essi Erano entrati nello stesso indirizzo Probabilmente abbiamo passato la fase del Panic Cell Dove con il ribasso generale E le cadute di ecosistemi come ad esempio quello di Terra Luna E la grande paura che è arrivata dopo Tra Celsius, Three Errors Capital, eccetera Molti hanno seguito il ribasso molto veloce E hanno venduto con Panic Cell in perdita Poi c'è una fase che invece esaspera tutti coloro che hanno la mano un pochino più forte Ma comunque hanno un approccio più all'investimento a breve termine Quindi comunque vedendo che il prezzo continua ad andare a ribasso senza segnali di rialzo Tendono prima o poi a cedere e a vendere i loro Bitcoin Magari sono anche costretti a farlo per motivi economici personali In ogni caso questa fase dura un certo periodo Quando poi si va ad esaurire questo quantitativo Che comunque era già predisposto psicologicamente alla vendita Poi è lì che si va a formare veramente un bottom E probabilmente con l'arrivo di nuove narrative Di nuove situazioni si va a far ripartire una domanda E a quel punto riparte anche un nuovo ciclo rialzista In questa fase siamo ancora all'esasperazione di alcune situazioni In ogni caso vediamo proprio dal grafico come la maggior parte dei Bitcoin Siamo venduti in questa fase in perdita Quindi abbiamo già raggiunto un livello di prezzo Per cui tante persone avevano comprato a un livello più alto La stessa cosa la possiamo vedere al contrario Dove la percentuale di UTXO in profitto Ha raggiunto un minimo risalente a due anni fa Infatti non era così basso da luglio del 2020 Il tutto sta portando ovviamente anche dei benefici Perché le transazioni e il costo di transazione si è abbassato di tanto In questo momento una transazione costa in media un dollaro e 15 su Bitcoin E su un altro articolo leggevo che per quanto riguarda Ethereum e transazioni su Ethereum Una transazione media è circa un dollaro e mezzo Quindi le gas fee ne stanno beneficiando con esse Anche tutti coloro che poi effettivamente lavorano su questo settore E non ne fanno solamente una speculazione Questo è chiaramente il periodo dei builders C'è stato un grande cambiamento di aspettative Questo è ovvio Infatti in questo articolo Cointelegraph ci rivela che più di 80.000 milionari in controvalore Quindi i possedenti Bitcoin sono stati declassati Più di 80.000 investitori in Bitcoin o Bitcoin holders Avevano uno stato di milionari se visto il loro controvalore in dollari E adesso sono tornati a non esserlo Infatti siamo passati da quando Bitcoin valeva circa 69.000 dollari Con un totale di 108.886 indirizzi Che avevano come controvalore un bilancio di più di un milione di dollari Ad avere in questo momento solamente tra virgolette 26.284 indirizzi milionari La cosa però non è solamente negativa Perché sono diminuiti sì i milionari Ma sono aumentati di molto gli indirizzi che hanno all'interno un Bitcoin intero Infatti sono stati visti in questo ciclo ribassista Più di 13.000 nuovi indirizzi con un Bitcoin intero E questo aumenta la decentralizzazione anche dell'holding E la distribuzione delle monete Per tutti coloro che pensano che Bitcoin sia altamente concentrato nelle mani di pochi Come avviene poi per qualsiasi altro asset in realtà Bisogna anche considerare che il numero di indirizzi che hanno un Bitcoin intero Ha raggiunto gli 860.000 E non è poco perché comunque la cifra attuale non è per tutti Anche gli attuali 19.000 dollari non sono una cifra raggiungibile per tutti La maggior parte delle persone su questo pianeta non ha quella cifra nel proprio conto in banca O come risparmio La stragrande maggioranza aggiungerei Andando a dare un occhio al sentiment Questo si è portato su livelli un pizzico più alti Rispetto alla paura vista una settimana fa Dove eravamo a livelli di estrema paura vicini al 10 o addirittura sottostanti In questo momento il livello di paura è 14 Comunque un livello di estrema paura e quindi un livello dove in generale non conviene andare all in Perché siamo in una fase molto molto rischiosa Dove effettivamente andare ancora più in basso E andare a sfogare nuovamente il panic cell che probabilmente non si è esaurito del tutto Potrebbe essere probabile Allo stesso modo però neanche È un momento in cui bisogna vendere tutto Perché vendere in estrema paura è comunque una cosa sbagliata È per questo che per quasi tutto il mio periodo divulgativo ho consigliato di creare una propria strategia E se proprio non si riesce a pianificare una strategia complessa Quanto meno un piano di accumulo costante che va a coprire un periodo un po' più lungo Sarebbe la cosa migliore E in queste fasi il piano di accumulo costante ci va a ripagare alla grande Perché aumentiamo il quantitativo di monete che stiamo prendendo con lo stesso quantitativo di fiat Quindi non è un consiglio finanziario Anche perché sto semplicemente ripetendo quello che è scritto qui nella leggenda di questo stesso sito Aggiungendo il fatto che bisogna crearsi una propria strategia Senza andare ad ascoltare quello che posso dire io Prima di passare a ulteriori notizie legate anche agli ETF E quando queste effettivamente potranno arrivare Oltre che parlare anche di Ethereum perché si sta avvicinando con molta probabilità Anche il merge su Ethereum Notizia molto molto importante Volevo riportare anche questo articolo qui In quanto parlando di DCA mi viene in mente che è possibile farlo su Crypto.com Quando dico DCA sarebbe dollar cost averaging Comprare Bitcoin impostando degli acquisti ricorrenti Come ad esempio comprare un 100 dollari settimanale Un 100 dollari bisettimanale mensile In un terminato giorno del mese Può essere all'inizio alla fine E farlo in modo automatico Così da non cadere nella tentazione di Ma non è una tentazione Così da non cadere nelle motività Perché poi effettivamente quando il mercato va giù Anche se in passato pensavamo che ci sarebbe piaciuto parecchio Vedere Bitcoin a prezzi più bassi Così da poterlo prendere Da poterne prendere di più In fasi come questa Quando effettivamente il prezzo torna su livelli più bassi Poi abbiamo paura Perché ce ne facciamo infondere da chi c'è accanto O da quello che leggiamo Ecco questo è sbagliato Sia quando si sale verso i 60 e i 70 mila dollari Sia quando si scende verso i 19 mila Per questo è molto più consigliabile Andare a fare dei movimenti ricorrenti E detto ciò Visto che si può fare questa cosa Con delle app come ad esempio quella di Crypto.com Vi porto questa breve campagna Che per chi non avesse Crypto.com Direi è il momento giusto per Ad approfondire Perché c'è un bonus di benvenuto notevole In quanto solitamente Come funziona? Con un link che viene condiviso Da chi vi invita Si ha un 25 dollari di bonus Riconosciuti in CRO sull'app E un 25 dollari per chi vi ha invitato In questa fase che durerà solamente Dal 30 giugno al 14 luglio 2022 Questo bonus viene moltiplicato Per 2, per 3 o per 4 Da cosa dipende? Da quanto viene moltiplicato? Dipende da chi vi sta invitando Infatti se chi vi invita era in Crypto.com Da prima del 30 giugno 2019 Addirittura si raggiungono i 100 dollari Di benvenuto in CRO Quindi si moltiplica per 4 Questo bonus di benvenuto Solo per questa campagna Che dura appena 2 settimane La bella notizia è che Sono stato uno dei primi probabilmente in Italia A credere nell'azienda Crypto.com E quindi ad avere il mio account Che è di gran lunga antecedente a questa data Quindi ho comunque un bonus con il mio link Che è di 100 dollari Questo vuol dire che Per chiunque si vada adesso a iscrivere Scaricando tramite il link che vi metto in descrizione L'app di Crypto.com Va a fare la verifica dell'identità E va a ordinare una carta Questi sono i 3 processi Si riceverà i primi 25 dollari Che sono quelli base E poi nelle settimane successive Questo potrebbe durare fino a 21 giorni dopo Si riceveranno gli ulteriori 75 dollari Che spettano a questa campagna Tutti i dettagli sono elencati qui Giusto per riassumere Ci tengo a precisarlo Perché è una grande occasione questa Che arriva in queste due settimane Quindi ci prendo un minutino in più In questo Crypto Monday Anche per chi magari ancora non lo avesse Magari voi lo avete Ma avete qualche amico Che ancora non è stato invitato Questa è una grande occasione Perché comunque 100 dollari In CRO con CRO così basso In questo momento Non sono pochi Gli step sono quelli di Seguire il link che vi metto in descrizione Scaricare l'app Fare il riconoscimento dell'identità Quindi il KYC tramite il documento Mettere in staking CRO Per ordinare una carta Che può essere anche quella di tire minimo Quindi ad esempio la carta rossa Dopodiché si riceverà subito 25 dollari di benvenuto E entro 21 giorni Gli addizionali 75 dollari Come vi dicevo Sono stati bocciati entrambi Gli ETF che erano Quelli più importanti In arrivo in questo periodo Ho già detto la mia Su questo argomento Quindi parliamo di Bitwise e Grayscale Tra l'altro Grayscale non l'ha presa bene E come aveva annunciato Ha avviato una causa legale Contro la SEC Proprio per questa decisione La pensa in questo modo Anche Vanek Che è stata una delle prime aziende Al mondo A presentare una domanda Per un ETF spot Basato su Bitcoin In quanto effettivamente L'assurdità È avere avuto Un'approvazione Di un ETF Basato su Futures Quindi Se la motivazione È quella Di una presunta incapacità Di soddisfare Gli standard di protezione Degli investitori E dell'interesse pubblico Nonché Prevenire atti e pratiche Fraudolente E manipolatorie Non si capisce Veramente non si capisce Questa cosa Ci fece anche un video Il perché Un ETF Sui Futures Darebbe queste garanzie E invece Uno Sullo stesso sottostante Masspot Non Le garantirebbe Anche perché Negli Stati Uniti Ma con la mancanza Di un ETP O di un ETF stesso Le aziende americane Stanno utilizzando Prodotti canadesi A tale scopo Quindi Non è che non stanno Comprando Bitcoin Tramite tali prodotti Ma lo stanno facendo Con prodotti Esteri Non degli Stati Uniti E questo È una delle motivazioni Che ha portato Vanek A ripresentare Un altro ETF spot La scadenza Adesso è fissata Per il 3 marzo 2023 Ad ogni modo L'obiettivo È stato raggiunto L'approvazione Di un strumento Del genere È rinviato Adatta da destinarsi E probabilmente Si ha molto più tempo Per determinati Per determinati personaggi Per determinati situazioni Di gestire meglio La situazione Bitcoin Niente mi toglie Dalla testa Che questo È quello che sta accadendo Situazione BlockFi Era uscita fuori Una notizia A questo punto A limite Del rumor Secondo il quale FTX Avesse acquistato BlockFi Lo stesse facendo Per una cifra irrisoria Circa 25 milioni Non sembrerebbe Essere così Quello che è L'annuncio ufficiale Che poi ci viene riportato Dallo stesso Zach Prince Il CEO Di BlockFi È quello Di un accordo Con FTX Che va ad acquisire Praticamente I debiti Dell'azienda BlockFi Che è stata Una delle prime A liquidare Three Errors Capital Ad esempio E le sue posizioni Acquisire i debiti Per circa 400 milioni Di dollari Con un'opzione Sull'acquisto Dell'azienda stessa Che va a valere A quel punto Ulteriori 240 milioni Quindi acquisendo I suoi debiti E sommando La cifra Per l'acquisto Si arriva A un valore Di circa 680 milioni Di dollari Considerando Che la valutazione Dell'azienda A giugno 2021 Era stata Di 5 miliardi Di dollari In totale Questo per BlockFi Comunque sia Potrebbe essere Anche Un freno A quello che è stato Un effetto contagio Molto pericoloso Nel settore Bisogna vedere Poi adesso Quello che succederà Nelle situazioni Celsius E Three Errors Capital Ma se la cosa Dovesse frenare Dovesse fermarsi E non coinvolgere Anche BlockFi Questo sarebbe Comunque Un segnale Molto positivo Quanto meno Per avere Una consolidazione Del momento Ribassista Sono quindi Cose molto importanti Da vedere E ovviamente Anche una rassicurazione Per tutti coloro Che hanno Delle posizioni Su BlockFi Stesso Molto velocemente Riporto anche questa Che è una curiosità Ho notato anche Su Twitter Di come siano Si siano ampliate Le voci contrarie Al mondo Bitcoin Al mondo crypto C'è molto Odio Sparso Adesso che I prezzi Stanno scendendo Sembra proprio L'esaltazione Dei leoni a tastiera In questo momento E addirittura Sta nascendo Un evento Dedicato A tutti coloro Che sono scettici Nei riguardi Del mondo crypto Quindi è proprio Una conferenza Anticripto Per parlare Con i regolatori Dell'argomento A me sembra Un'assurdità Quello che sta nascendo E non capisco Da un certo punto di vista Che vantaggio Ne avrebbe Una persona Nell'autolimitare La propria libertà Ma questo forse Il più grande problema Il problema Alla base Che stiamo vivendo In questo momento Anche perché Ci sono situazioni Che probabilmente Sono lontani Sia dalla nostra Conoscenza Che dalla nostra Vita reale Come quelle Di situazioni Sudamericane Proprio per non parlare Di altri paesi Con situazioni Ancora peggiori In Argentina La battaglia Contro L'inflazione Crescente Dura ormai Da tempo E ha portato Una domanda Enorme Verso Stablecoin Ancorale Sul dollaro Perché ormai Da tempo È molto difficile Per chi vive In Argentina Entrare in possesso Di dollari Con una svalutazione Che ha raggiunto Il 60% Quindi l'inflazione Del peso argentino Ha raggiunto Il 60% E sono stati posti Dei limiti Al cambio Tra peso Argentino E dollaro americano Non si possono scambiare Più di 200 dollari Al mese Questo ovviamente Ha creato Molto interesse Verso il settore Cripto E in particolare Nell'ultimo periodo Con la forza Che ha preso il dollaro Si è creato Molto interesse Verso USDT In primis E poi Anche altre Stablecoin Pegate sul dollaro Partendo da Dai A B USD Il dollaro Stablecoin Di Binance Pax dollar E DOC Dollar on chain C'è un premium Ossia Un costo Maggiorato Negli In Argentina Nei riguardi Del dollaro Di tether USDT Addirittura Del 12% Quindi In Argentina Si paga Un dollaro USDT Addirittura Il 12% In più Tanto è la richiesta Questo giusto Per far capire Come la situazione In alcuni paesi Sia molto diversa E non stiamo parlando Di piccoli paesi A questo punto Perché Non credo che qualcuno Abbia in testa Che l'Argentina Sia L'ultimo paese Insomma Nella lista Mondiale Sia molto diversa Da come ce la stiamo Immaginando Avendo la fortuna Magari di vivere In paesi europei O Del nord America E la cosa Ancora più profonda Da dover osservare Da dover Comprendere E che se il dollaro Sta prendendo Questa forza Nonostante abbia Immesso un livello Di liquidità Tale da raddoppiare Il debito precedente Al covid Quello che porta Alla forza del dollaro È il fatto Che questa moneta È la riserva monetaria Di tutto il mondo Quindi prima ancora Di impoverire Gli Stati Uniti Va ad abbassare Il potere d'acquisto Di tutti i paesi Che ne detengono Come riserva di valore E questo è il problema Che viene additato In primis Da bitcoin E dalla sua politica monetaria Basata su matematica Questo è un concetto Che non smetterò mai Di approfondire Io stesso E di comprendere appieno Per essere in grado Di poterlo Divulgare al meglio Giusto per diversificare Le fonti Voglio riportare Anche questo articolo Da un sondaggio Mastercard Quindi non un sondaggio Fatto non so Da Blockstream O da Ethereum Foundation Ma da Mastercard Il 51% Degli utenti Dell'America Latina Hanno avuto O hanno Una esperienza Nel mondo cripto Quindi non è che Conoscono il mondo cripto Ma hanno già Operato in cripto Questo ci tengo A farlo vedere Perché In questi ultimi giorni Con molta forza Sta uscendo Una narrativa fasulla Secondo la quale Le cripto Non le usa nessuno Non le conosce nessuno È ovviamente Una falsità Questo ce lo riporta Mastercard stesso Che dovrebbe essere Un competitor A livello di sistema Di pagamento Il 51% Degli utenti Mastercard Nell'America Latina Ha avuto Esperienze Con transazioni In cripto E addirittura L'82% Secondo lo stesso Sondaggio Ha rivelato Di essere favorevole Ad avere Funzionalità Legate al mondo cripto Direttamente All'interno Delle applicazioni Legate alle loro Istituzioni finanziarie Quindi Ad esempio Sistemi bancari O FinTech In genere Quindi stiamo parlando Di un risponso Elevatissimo Dove? In paesi in cui Queste situazioni Queste soluzioni Servono di più E noi stiamo vivendo Solamente Una falsa illusione Per la quale A noi Queste problematiche Non toccheranno mai È questo Il grande problema Andiamo Sull'ultimo argomento Di quest'oggi Ultimo Ma non meno importante Etirum Arriva Su un ulteriore Tesnet Per quanto riguarda Il merge Ricordo che Le tesnet Pubbliche Saranno tre Sul quale si andrà A fare il merge È già avvenuto Su Ropsten In questo momento Arriva anche Su Sepolia In contemporanea È stata rimandata Nuovamente La difficulty bomb Che ricordo essere Un incremento Della difficoltà Sul mining Che voleva essere Introdotto Proprio per disincentivare Tutti coloro Che facevano mining Visto che il passaggio Poi sarebbe venuto E il consenso Sarebbe andato Verso Proof of stake Siccome però Il merge È stato rimandato Di diverso tempo L'introduzione Della difficulty bomb Avrebbe portato Grandi difficoltà Non solo Per la situazione Generale Di utilizzo Su Ethereum Perché comunque Un incremento Così notevole Della difficoltà Avrebbe rallentato La produzione Dei blocchi E quindi Rallentato il rilascio Quindi le transazioni Ci avrebbero messo Molto di più Ad essere Convalitate Questo avrebbe rallentato In generale L'utilizzo Di Ethereum Ma anche Lo sviluppo E il passaggio Al proof of stake Perché lo stesso merge Necessita comunque Delle implementazioni Che devono essere Inserite Nei blocchi Questo è stato Rimandato Di ulteriori 100 giorni In pratica Da tempo Fino a Metà ottobre Per avere Il merge Su mainnet Il passaggio In questo momento È quello Di Di sepolia L'ultimo In lista Sarà O girly O prater Una volta Che si avranno Queste tre Tesnet Che hanno comunque Delle caratteristiche Un po' diverse Da alcuni I punti di vista Tecnici Con il merge All'interno E le transazioni Convalitate Tramite Proof of stake A quel punto L'ultimo passo Il passo successivo Sarà quello Di passare Alla mainnet Ovviamente In questa fase Quanto manca La mainnet Non lo possiamo Sapere Perché dipende Da come andrà L'osservazione In tesnet Per quanto riguarda Queste due tesnet E poi La terza Quindi Si avrà Ripeto Ethereum Che convaliderà Transazioni In proof of stake Su tre diverse Blockchain In tesnet Se tutte e tre Andranno bene Arriverà poi Il passaggio In mainnet Le stime Sono appunto Per agosto O settembre 2022 E parlando di tesnet Anche metaswap Entra nella terza fase Terza ed ultima fase Di tesnet Prima del rilascio Di tesnet In mainnet Proprio su Ethereum Questa è la schermata Che a breve Sarà accessibile Da tutti Dove si potrà Utilizzare L'ultimissima Versione Adesso sono In tesnet Su covan Che è la tesnet Utilizzata Da metaswap Per provare Ci sono Dei rifacimenti Grafici Molto Molto Importanti Per poter Provare L'ultima Versione Degli swap Questa sarà Quella che arriverà Poi in mainnet E è stata rilasciata Anche la funzionalità Di liquidity providing Infatti in questo momento Questa è la schermata Con il quale Si può Andare a depositare Liquidità In ether Vrap BTC O USDT E mintare Una posizione Mintare Un NFT Che va a rappresentare Proprio La posizione Depositata Nelle liquidity pool Liquidity pool Che vengono poi Utilizzate Per fare Gli swap Da edging Il tutto È stato spiegato In diversi Mie video Comunque Questo è proprio Un NFT Generato dalla posizione unica Attenzione Perché questa È una chicca Non da poco A livello tecnico Ricorda un po' Gli NFT Che vengono creati Su Uniswap E non parliamo Di NFT Dove L'immagine che vediamo Viene salvata Sul server O in IPFS Qui è totalmente Decentralizzata Quindi questo è Un NFT Totalmente Su blockchain Totalmente Decentralizzato Che ha poi Una generazione Per alcuni parametri Anche per le sue Scarsità Qui possiamo vedere La tipologia Ossia su USDT E poi Terminati Aspetti grafici Che invece Arrivano In modo Più o meno Randomico E danno Un valore Di scarsità Alla posizione Tra l'altro Con il fornire Di liquidità Alle pool Si ha anche Una reward In XMT Proprio per Contribuire All'applicativo Questa liquidità Serve appunto A effettuare Questi scambi Ed è alla base Degli swap Che possono essere Consentiti Dalla piattaforma Stessa Ripeto Qui sono in testnet Per chi volesse Partecipare Alla testnet Fase 3 Che sarà comunque Incentivata C'è una grande Novità Ossia Si potrà fare Tramite Un form Che vi rilascio Ci si iscrive A questo form Si ricevono Tutti i token Di test Per poter Per potervi Si entra in un gruppo Dedicato alla testnet Per chi Avesse già Partecipato Alla testnet Precedenti Vi consiglio Anzi È richiesto Proprio L'utilizzo Di un nuovo Address Quindi si crea Un nuovo Address Su covan E si utilizza In questo form Perché in questa fase Ci sarà un form Che viene distribuito A tutti gli ambassador Di metaswap Tra cui ovviamente Io faccio parte Che consentirà Di avere Il 150% Delle reward Altrimenti Per chi partecipa A testnet Senza Un form Di questo tipo Si avrà Il 100% Delle reward Quindi Se volete Partecipare Alla testnet Dell'ultima fase Di metaswap Prima della mainnet Compilate Questo form E verrete Inseriti nel gruppo Con accesso Direttamente Alla piattaforma In testnet Su covan Intanto In parallelo Metaswap E tutti I suoi contratti Sono sotto Auditing Da parte di Certic Che sta controllando Tutto il codice Il processo È arrivato Al 57% Quindi In parallelo Si sta facendo Una testnet Pubblica Quando Certic Come auditor Sarà arrivato Al 100% Saranno stati Riportati I problemi E sistemati Dal team Di sviluppo In parallelo Si avrà Tutto il gruppo Di test Che sta Continuando A provare L'applicativo Si arriverà A una fase In cui Si sarà fatto Il possibile Per vedere Che appunto L'adapp Funziona Gli swap Funzionano E qui Arriverà Il rilascio In mainnet Sicurezza Prima di tutto E ricordo Che a quel punto Per ogni fee Generata Dall'applicativo Verrà fatto Buyback Su XMT Stesso Quindi Quello Sarà Un grande Momento Per il Progetto Stesso Per questo Lunedì è tutto Con me Ci vediamo Lunedì prossimo Per il Il solito Criptomunday Ma vi invito A non Perdervi La live Di questa Settimana Su Coinsquare Dove ci sarà Come ospite Ferdinando Ametrano Grande Esperto Di bitcoin Si parlerà Ovviamente Del tema Principale Quello Del pericolo Sulle Situazioni Sui servizi Centralizzati Sia Sefai Che Exchange Con Una delle persone Più autorevoli In Italia Con cui Parlarne Oltre a Filippo Angeloni Ci sarà Come ospite Anche Giuseppe Denaro Conosciuto Qui su Youtube Come Zaragast Live Da non Perdere Mercoledì 6 luglio Ore 18 e 30 Impostatevi Il Promemoria Per Cryptomunday È tutto Grazie Ancora Dell'attenzione E Buon Lunedì